Ciao a tutti ragazzi, come state gente? Io ho già visto Ant-Man 3 e ho fatto un po' di fatica, devo dire la verità, mi dispiace Tanzini, mi dispiace Tanzini, mi dispiace non mi è piaciuto, no, sembra che Ant-Man 3, Quantumania, sia un flop totale per la Marvel non perché non sia piaciuto a Likes, Likes non è nessuno perché è un flop, basta, le compagnie fanno film, non per carità, fanno film per avere indietro un guadagno è semplicissimo, avete sentito bene, è una vera sorpresa? No oggi ragazzi vi svelerò perché mai la Marvel stia andando sempre peggio verso il valatro rimanete on fire perché qui sul canale abbiamo sempre le notizie più fresche raga le cose migliori dei supereroi, sigla non perdiamo tempo ragazzi perché Ant-Man 3 e Quantumania ha incassato 106 milioni di dollari nella sua prima settimana negli Stati Uniti e solo 32 milioni nella sua seconda settimana non voglio essere cattivo col film ma questo fallimento vi è meritato, sì Ant-Man 3 adesso è considerato il più grande fallimento al botteghino e della Marvel fino ad oggi e sì, nonostante abbia incassato 106 milioni di dollari nel suo primo weekend sono tanti e 106 milioni, sai cosa ci farei con 106 milioni di apertura immagina però se li mettiamo a confronto con incassi per esempio di Wakanda Forever, di Doctor Strange 2 e No Way Home, non ne parliamo, guarda questi numeri di Ant-Man non sono niente, sono un disastro per la Marvel a vedere quest'ultima produzione, è chiaro ragazzi ormai che la Marvel non si sforzi più a creare nuove storie e diciamoci la verità, per quanto riguarda Ant-Man 3, Quantumania gli effetti speciali sembrano quelli della Play 3 che l'ho già detto in un vecchio video e lo rivadisco anche gli spettatori ce ne sono accorti durante la seconda settimana però dove l'incasso è sceso del 69,7% del 70%, ragazzi, rispetto al primo weekend diventando la peggiore caduta senza paracadute negli ingassi della storia dell'MCU che sia la fine dei tempi per l'MCU io ho paura, eh, io ho paura questa caduta è stata ancora più drammatica rispetto a quella di film come Wakanda Forever Doctor Strange 2 o No Way Home oppure Black Widow perché ragazzi? perché ora più che mai gli spettatori sono lì a giudicare ok, cosa mi farà la Marvel adesso? cosa mi convina? ah, guarda, un'altra cagata mi manda un'altra cagata magari si mettono ad indagare qua e là notano con stupore in qualche articolo random che la Marvel ha utilizzato la stessa compagnia d'animazione di Wakanda Forever ma non è questo il problema il problema è che hanno dato la priorità a Wakanda Forever così il team di animatori non è stato in grado di finire giustamente gli effetti speciali entro la data di uscita che la Marvel aveva detto magari mi immagino con orari di lavoro stressanti alla Marvel ok, rilasciatela così con me chi se ne frega, dai, fan son mica dei grafici so scemi via ed è questo che accade e non a caso, come ho già detto prima il film nella seconda settimana ha avuto uno strapiombo di 70% una caduta proprio brutale battezzata la peggiore caduta di incassi nella storia del cinema dei supereroi nella storia dei cinemi mamma mia cosa ne pensate ragazzi che brutta storia la Marvel ha avuto un po' troppa sicurezza in se stessa questa volta nel produrre alla cazzalazza perché magari mi direte no, no, l'agli effetti sono da play 3 ma la storia è consistente è bello, mi fa ridere i film non mi fa ridere io l'ho già visto io non chiedetevi come ma io ho già visto un film ragazzi no no ma cosa riserva il futuro per questo film? le previsioni suggeriscono che l'incasso totale per Ant-Man 3 potrebbe essere compresso tra 470 e 540 milioni di dollarazzi sotto la soglia da quanto incassato da Ant-Man on the Wasp un film che ha incassato 622 milioni di dollari come me in molti credono che all'MCU rimane molto poco c'è chi pensa che all'MCU abbia perso il suo fascino e la sua brillantezza è che i film non siano più in grado di soddisfare la gente come è in past c'è gente che crede seriamente che a questo punto Kevin Feige dovrebbe essere cacciato a calci o in qualche albero c'è gente che crede anche che tutti i progetti messi in cantiere da quest'uomo Kevin Feige dovrebbero essere bruciati tutti quanti e ricominciare da zero o da metà strada cosa molto improbabile come disse il dirigente di prima nel video i fan sono scemi e non sono mica grafici e i fan saranno sempre pronti ad andare al cinema nei primi weekend di uscita questo perché non hanno niente da fare e anche per evitare spoiler come me quando ero nella fase 1 Marvel adesso sono nella fase 2 e ve la spiego la fase 1 Marvel è tutto il giardino di rose tutto quello che gaga Kevin Feige e la Disney va bene la fase 2 invece no non è il contrario la fase 2 è crudele ma giusta ok? io adesso sono in fase 2 commenta se sei ancora in fase 1 ma non credo se sei ancora in fase 1 credo che te ne andrai subito da questo video di solito i film sequel nella loro prima settimana superano il primo di solito eh con No Way Home e il suo primo weekend ho qualcosa alla gola maledizione ha superato Far From aspetta No Way Home ha superato sì Far From Home perché se andò di home allora ti sbagli sti cazzi di home Doctor Strange 2 ad esempio ha superato il primo Strange e qui volevo arrivare l'unica eccezione ragazzi è Wakanda Forever ma qui solo perché il pubblico se ne sta accorgendo delle cagate che ti mandano eh Wakanda Forever hai cassato 21 milioni di dollari in meno rispetto a Black Panther il primo Wakanda Wakanda Forever 1 chi saprà mai eh perché il carissimo Chadwick Boseman è scomparso no perché ha fatto una cagata con messicani e tipe tutto il cast era di tipe tutto mamma mia dai dai editor master chiudimi il video che ho finito per oggi grazie sì ho trovato l'editor master slim avete visto ragazzi l'editing adesso è così così dai però spero migliori col tempo si mette tante tante animazioni però i video mettici cazzo anche i fragmenti di video eh lo chiamo adesso per due cosette mi fa e dorme lui dorme a quest'ora sono le dieci cazzo le dieci della marvel ci puoi mettere i frammenti dieci secondi qualcosina ce la puoi mettere non salta mica sto cacchio di copyright dove devi stare attento è con la DC quelle di ti secano in due secondi non hanno rispetto per il farius non sanno manco chi cos'è boh finito ricapitoliamo altman fa cagare editor mettici più video nei video ok non solo foto non è una slide del comune è tutto per oggi se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di lasciarmi un like iscriviti attiva la campanella per ricevere le notifiche a casa il primo a commentare nel prossimo video riceverà altri video di like nella seconda settimana però eh del 70% ciao